L'Italia ha bisogno di campioni per essere più competitiva e sostenibile. E anche la tua impresa può esserlo. Da maggio il censimento delle imprese da decennale diventa triennale, con un questionario esclusivamente online per un campione di circa 280.000 imprese con tre o più addetti. Le informazioni diventano continue e sempre più tempestive. Per conoscere, valutare e decidere il futuro della tua impresa. Se ne fai parte, fai la tua parte. Grazie.